Oggi vi presenterò una lettiera autopulente della Vivitmo, una lettiera del tutto utile per una famiglia che ha degli animali, in particolare dei gattini. Questa lettiera vi arriverà dotata di un foglio di guida veloce con tutte le indicazioni per la preparazione e un manuale di uso. Ora vediamo strutturalmente come è costituita questa utile lettiera. Vediamo che questa è composta da un tamburo e da una base fissa. Al di sotto nella base fissa ci sono degli interruttori che adesso andremo ad analizzare. Al lato troverete un QR code. Che cosa serve? Serve perché l'innovazione di questa lettiera sta nel fatto che attraverso questo QR code noi possiamo scaricare una facilissima applicazione sul nostro cellulare e attraverso questa applicazione potremo utilizzare al meglio, dando anche delle indicazioni sullo stato generale dei nostri gatti, la lettiera. Vedremo che la lettiera funzionerà attraverso un'alimentazione. Il cavo di alimentazione è in dotazione. Ora andiamo ad analizzare nel particolare diversi interruttori. Il primo interruttore serve per avviare il ciclo di pulizia e per interromferlo basterà ripigere, premere di nuovo. E poi serve anche per configurare la wifi. Il secondo interruttore serve invece per estendere la sabbia. Una volta che avete caricato la sabbia basterà pigiare questo interruttore affinché la sabbia venga stesa. E il terzo interruttore, premuto per tre secondi, servirà per avviare la rimozione della sabbia. Come vedete il tamburo è costituito da una parte alta dove troviamo uno sportello appositamente chiuso. Questo sportello ci rimanda ad un contenitore all'interno del quale noi potremo mettere, come ho fatto io, una busta. Dentro questa busta si collocherà la sabbia che quotidianamente verrà pulita all'interno della stessa lettiera. Diciamo che in questo spazio si trova anche un contenitore che serve proprio per non far trapassare gli odori forti dalla lettiera nell'ambiente circostante. Quindi per rendere pulito l'ambiente in cui collochiamo questa lettiera. La caratteristica di questa lettiera è che questa è dotata di 10 sensori interni che facilitano quindi un uso sicuro della stessa. In quanto i nostri gattini, come avete potuto vedere nel mio caso, entreranno in massima sicurezza. All'interno del tamburo c'è una base che è composta da silicone e da tela. Proprio in maniera molto innovativa questa base garantisce di non danneggiarsi con le unghie dei gattini stessi. La pulizia è automatica. La funzionalità può essere manuale o automatica che potrete gestire molto facilmente attraverso la vostra applicazione. Un'altra caratteristica importante è l'assenza di rumorosità, in quanto durante l'uso avrete la possibilità di non sentire alcun rumore fastidioso e quindi poterla gestire in qualsiasi stanza della vostra abitazione.